La crisi rende vulnerabili migliaia di attività e gli imprenditori rischiano di finire nelle mani degli usurai. La Camera di Commercio di Torino lancia un apposito sportello gratuito e anonimo e in poche ore già 5 le segnalazioni. Enrico Bona. La pandemia non ha fatto che aggravare il problema. Tante nell'ultimo anno le imprese che si sono trovate in crisi di liquidità incapaci di accedere al credito attraverso i canali tradizionali. Obiettivi ideali per gli usurai. Sono persone che si conoscono da tanti anni, talvolta addirittura degli amici, che senza che gli venga richiesto alcunché si presentano e offrono aiuto sapendo che l'imprenditore si trova in difficoltà. In quel momento l'imprenditore deve insospettirsi perché una volta accettati quei soldi si cade in un vortice che è difficilmente a fine. Vittorio Favetti è il coordinatore dello sportello antiusura appena aperto dalla Camera di Commercio di Torino. Vi si accede in forma riservata attraverso il sito internet dell'ente, indicando solamente il settore di attività e un numero telefonico a cui essere contattati. I colloqui si svolgono in questa stanza con un facilitatore, un professionista indicato dalle associazioni di categoria che aderiscono al servizio. Il mio compito tra virgolette è quello di capire le vere problematiche dell'imprenditore che possono essere le più svariate, da non ha avuto accesso a un finanziamento, piuttosto che non riesce a pagare le rate del mutuo e non sa che cosa fare. Quindi provare con lui a trovare delle soluzioni il più possibili e concrete. Lo sportello non eroga fondi, lo scopo è fare prevenzione assistendo gli imprenditori prima che siano intercettati dagli usurai. Uno strumento che si affianca al fondo a contrasto dell'usura per il quale il Consiglio regionale ha stanziato 100.000 euro l'anno per tre anni.